Genuina, frizzante e spontanea. Antonella Clerici alla prova del cuoco è tutto questo e molto altro. Ecco perché dopo tanti anni di trasmissione è ancora così. E noi ci facchiamo una denuncia però. Come? Ma? Però è giusto che vai nominare. Ti voglio bene. È giusto che mangiare. Seguite dal suo pubblico. Calci là dove deve essere preso. Quale mano? Non mi alzare. È un pazzo, un mentecato. Soltandoli a trascorrere la mattinata tra risate e deliziosi risultati. È una cattiva persona e non voglio che sia al mio fianco, non la voglio conoscere né qua né fuori.